Una serie di percorsi guidati nei luoghi che ispirarono Piero della Francesca e Leonardo da Vinci si comincia sabato 5 agosto con Piero il Lupo, una serata al Chiardinuna per ascoltare l'ululato dell'animale assai presente nel nostro introterra, entrare in un paesaggio d'arte non è immaginazione ma realtà, è il progetto Montefeltro vedute rinascimentali, è un sorprendente e affascinante percorso tra pittura e natura, arte e ambiente, storia e leggenda che prende le mosse dall'approfondimento dei panorami dipinti nei fondali delle più celebri opere realizzate dai grandi artisti rinascimentali Abbiamo la possibilità di condurre visitatori, turisti, viaggiatori acculturati e impegnati, curiosi soprattutto a mettere i piedi laddove li ha messi Piero della Francesca o Leonardo appunto per ritrarre i loro grandi paesaggi, i grandi dipinti del Cinquecento Il calendario delle visite guidate comincia il 5 di agosto, incontreremo prima Piero della Francesca in Canedossa che ci racconterà il suo viaggio dal Sansepolcro verso Rimini, quindi verso la Corte dei Malatesta e poi faremo un'escursione particolare di notte anche se rimarremo in tutta sicurezza vicino alle strade eccetera per cercare di ascoltare l'urlato dei lupi ancora presenti in questa zona Faremo quello che si fa normalmente quando si fa un monitoraggio sul lupo, faremo il wall fouling, cioè lanceremo un ululato preregistrato e se i lupi sono presenti in zona probabilmente rispondono. La presenza del lupo nella Valle del Marecchia è ormai accertata e consolidata per cui diamo la possibilità ai partecipanti a questa serata di conoscere gli aspetti di biologia e di ecologia del lupo attraverso dei filmati, attraverso delle proiezioni di di diapositive e rispondendo alle domande, alle varie domande che possono esserci e poi dopo cena, quindi a buio, proveremo a lanciare questi ululati